Incendi, con napo amminiti, per volontari vigili fuoco solo rimborsi, mai più retribuzione A Gempres. Mai più retribuzione oraria ai volontari a chiamata dei vigili del fuoco. Il vero volontario non deve essere retribuito ma solo rimborsato, anche della eventuale giornata lavorativa persa per fare il pompiere E una riforma che chiediamo da anni e che doveva trovare soluzione nel decreto delegato dalla legge Madi è entrato in vigore a luglio di riordino del corpo, ma così non è stato, al ministero dell'interno non ne hanno avuto il coraggio, forse nel timore di disaffezionare, in questo momento che mancano anche 3500 pompieri di ruolo dall'organico, chi tra i volontari lo fa anche per soldi Lo dice Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato con napo dei vigili del fuoco che, in riferimento ai volontari di Ragusa indagati Brizzi si appella al ministro dell'interno Minuti, il problema va risolto alla radice, è inutile costituisci parte civile nei processi, molto più utile rendere gratuita la prestazione I veri volontari apprezzeranno come apprezzeranno anche i vigili del fuoco di ruolo. Le associazioni che rappresentano i volontari abbiano il coraggio di chiedere anche loro la gratuità della prestazione I veri volontari oppure l'interno